Che dire, allora cambiamo completamente argomento, avendo voi a rimarvi ascolto live siete abituati Anche all'esamine di carattere, diciamo così, spirituale e teologico, perché avete avuto modo di sentire quelle che sono, diciamo, le opinioni di alcuni personaggi rispetto alla questione del contanto vituperato e tanto contestato, quantificato di Jorge Bergoglio Che dire, abbiamo avuto il piacere, il tempo fa, di ospitare nella prima volta Don Alessandro Minutella, sacerdote animatore della comunità del piccolo resto Quindi fondatore anche di questa comunità, animatore comunque di una folta comunità virtuale, non solo di fedeli, cattolici, che contestano l'orientamento di questo attuale pontificato Interessante aveva la vicenda, anche abbastanza controversa, di Don Minutella, di tutto lo stato laicale a causa di questo suo impegno Quindi è in aperto contrasto con le giarchie vaticane, comunque lui continua in perterrito senza guardare in faccia a nessuno La sua comunità continua a crescere, c'è un movimento molto netto, molto appassionato di fedeli cattolici che vogliono una svolta Vogliono abbandonare questa svolta, a loro dire, eretica, lontana da quella che è la tradizione cattolica Quindi continua con questa sua opera e ha iniziato un altro tour che ha fatto tappo anche a Cagliari una seconda volta Quindi abbiamo avuto il piacere di incontrarlo una seconda volta, dopo il suo incontro con i fedeli, le funzioni, eccetera Abbiamo avuto il piacere di fargli qualche domanda su avvenimenti che sono capitati recentemente E vi guardano proprio il discorso legato ai nascenti contrasti tra le giarchie di alcune aree locali Diciamo, dei potentati cattolici, in questo caso vescovi e quant'altro Insomma, il pontifice stesso, ovvero il presunto pontifice Quindi adesso diamo la parola al sottoscritto che ha registrato quindi l'intervista a Don Minutella Dopo l'incontro tenutosi ieri al Tio della Cagliari E poi dopo possiamo tornare a parlare e a fare qualche commento anche con la dito di Simone Quindi a me la parola, a Tom Il credito ritorno di Don Alessandro Minutella qua a Radio Ascolto Live La prima volta abbiamo parlato della sua attività, del suo tentativo di diffondere la sua predicazione Il suo punto di vista è cercare comunque di risvegliare nelle persone Quella che è un fervore religioso che è stato a suo dire molto daviato e traviato Da un pontificato molto discusso che è appunto quello di Jorge Bergoglio E torno qua ai nostri microfoni con molta gentilezza a rispondere alle nostre domande Poche domande ma secondo noi significative di una situazione che sta andando a evolvere in maniera particolare Prima domanda è su un avvenimento recente che riguarda appunto la Chiesa Ed è quella che riguarda la mancata elezione a cardinale del vescovo di Milano Mario Del Pini Il quale non si è risparmiato diciamo così un certo sarcasmo durante una funzione Il sarcasmo è indirizzato appunto all'attuale pontefice o presunto tale Jorge Bergoglio C'è chi dice che sia stato diciamo così una specie di presa di posizione quasi a seguire una reazione emotiva Quasi un re esserci rimasto male ma molti, incluso lei, hanno l'impressione che si tratti di un segno particolare Di una possibile situazione quasi scismatica, quasi un piccolo segno di uno scisma Che possiamo dire? Intanto ben ritrovati, grazie di questa nuova possibilità che mi viene offerta Credo che quello che è accaduto la settimana scorsa abbia più di un valore simbolico Qualcosa di concreto, di molto reale Ho avuto modo di commentare che le dichiarazioni di Del Pini che lo ricordo è l'arcivescovo metropolita di Milano Sono state accompagnate dagli applausi ripetuti Non solo della gente che era presente in chiesa che spontaneamente per un motivo o per un altro ha lasciato partire l'applauso Ma quel che è ancora più significativo dei vescovi lombardi Dunque è molto probabile, io sono quasi certo di questo, che lui Del Pini non abbia fatto questa sortita così exabrupto in maniera improvvisa Ma era pianificato Credo che sia stato un segnale neanche tanto isolato dal punto di vista della compiaciuta partecipazione di molta e buona parte dell'episcopato non solo italiano ma mondiale E cioè Bergoglio si trova finalmente in una posizione di totale isolamento Per questo insiste col fare cardinali del tutto insignificanti dal punto di vista del carisma e dei meriti E presi chissà da dove A volte con età canonicamente anche abbastanza imbarazzanti C'è tra questi uno di 48 anni, vescovo italiano, vescovo in Mongolia Gli ha solo fatto simpatia, ha pensato di poterlo ascrivere alla propria corte Siamo tornati con Bergoglio che auspicava una chiesa dei poveri alla più radicale forma di nepotismo Siamo in presenza di una revival di una corte rinascimentale di papi Per fortuna lui Papa non è questo cambia tutto Sicuramente dal punto di vista suo e non solo suo Dal punto di vista di chi comunque critica in maniera radicale anche a livello del diritto canonico la posizione di Bergoglio Questo è un fatto non contestabile Sembra che anche altre cose stiano a indicare che ci sia un clima di cambiamento anche parecchio traumatico Nel ambito del Vaticano Non è un mistero, è un fatto, anche una notizia Che Jorge Bergoglio abbia ordinato il trasferimento di tutti i capitali, le sostanze economiche del Vaticano Altro segno particolare di che cosa stiamo muovendo all'interno del Vaticano Secondo lei assisteremo a un ottuno particolare? C'è aria di abdicazione o di abbandono dell'incarico? Ma non penso ad abdicazione ma a una vera e propria dimissione da parte di Bergoglio Lui stesso lo ha detto più volte ultimamente che non esclude la possibilità di dimettersi La difficoltà a deambulare e l'età che comunque avanza Lo costringono a tenere presente questa ipotesi non più così remota E noi stiamo auspicando vivamente con la preghiera, col sacrificio, con l'esposizione di noi stessi Che questo accada presto perché almeno in questo modo la Chiesa possa fermarsi e scongiurare Speriamo l'ipotesi di un nuovo falso conclave con un nuovo falso Papa Il Papa rimane Benedetto XVI e il Papa regnante a norma delle leggi della Chiesa E a lui che bisogna guardare E qualora Bergoglio si dimettesse avremo due papi dimessi Questo è quanto di più inaspettato, non è mai accaduto nulla di simile Il cattolicesimo romano, lo dico con dolore, pagando di persona tra l'altro questa denuncia Si trova ad un livello mai visto prima di difficoltà, di prova E veramente come ho avuto modo di dire l'ultima volta con voi anche E' veramente l'attuazione di quello che il terzo segreto di Fatima lasciava intendere Una prova senza precedenti per il cattolicesimo romano mondiale Certamente, anche perché comunque si annuncia un periodo che potrebbe anche corrispondere Con quella che molti nell'ambito della fede cattolica considerano un elemento apocale Ovvero una profezia che potrebbe realizzarsi con l'arrivo E l'abbiamo detto anche durante l'intervista con Andrea Cionci del famoso alto prelato Che potrebbe essere, se questa profezia in qualche modo si lega agli avventi storici Che potrebbero verificarsi, le profezie devono essere interpretate in qualche modo Un periodo particolare in cui potrebbe esserci un grande cambiamento E questo è un elemento che porterebbe a una grande transizione nel mondo della fede cattolica Ma la domanda fondamentale è Se un Papa abbandona, o un presunto pontefice abbandona l'incarico E un altro che in questo momento ha comunque il munus in quanto tale di pontefice rimane Questo pontefice automaticamente torna in carica O dobbiamo assistere a un altro avvicendamento o un conflitto Che potrebbe portare addirittura a un'ulteriore separazione, un'ulteriore guerra Forse un altro scisma Come detto prima, magari già il segno del Vescovo del Pini è stato indicativo Questo ulteriore abbandono, questo ulteriore cambiamento Secondo la sua visione delle cose, porterà a un conflitto che porterà a un rinnovamento O a un ulteriore scisma Come dissi nell'intervista ad Andrea Cionci Un protestantismo 2.0 o una ridificazione della Chiesa Cattolica? Il malcontento intanto, come abbiamo avuto modo di dire poco fa È crescente ed è ormai trasversale È presente dappertutto Questo è già un indice importante Ma l'ipotesi che Bergoglio possa morire prima di Papa Benedetto È uno spettro che si aggira tra le stanze vaticane Perché veramente in quel caso l'ipotesi che possa tornare come Papa Regnante E legittimo Benedetto XVI è del tutto plausibile Quindi diciamo che io ho sempre parlato ai microfoni di Radio Domina Nostra Di una eterogenesi dei fini Cioè i sistemi ideologici, i sistemi di potere Architettano un programma che tante volte poi si ritorce contro In definitiva È quello che un po' più semplicemente si dice L'uomo propone, Dio dispone Cioè alla fine c'è un disegno di Dio provvidenziale Che chissà come in questo caso si va lentamente articolando Di fatto Benedetto XVI si era dimesso dicendo che non ci arrivava Che non ce la faceva ma comunque si reggeva tranquillamente in piedi Bergoglio invece non si regge in piedi ed è ancora lì Tutto questo dovrebbe far riflettere e far capire che automaticamente viene fuori Il fatto che Benedetto non si è dimesso perché non ce la faceva Ma perché è stato costretto Effettivamente sì, c'è un insieme di fatti e di vicende anche misteriose Che potrebbero ascriversi al mondo dei complottisti Anche se non lo sono Che parlano chiaramente di questo avvenimento Il complotto è quando un soggetto tende a strumentalizzare una determinata vicenda Intravedendo ciò che non c'è o ciò che potrebbe esserci Nel nostro caso non ci definiamo mai complottisti Perché non vediamo quello che non c'è o che potrebbe esserci Ma quello che effettivamente c'è Per quello che noi citiamo sempre il codex iuris canonici Il codice di diritto canonico Che al canone 332, paragrafo 2, norma le dimissioni di un Papa E Benedetto XVI non ha rispettato i due criteri previsti Sui muneri e rite manifestetur Dunque non siamo complottisti Siamo più che realisti È tutta un'altra faccenda questa Certamente, questo è sicuramente Ultima domanda E questa ha a che fare con la situazione attuale Ci tenevo comunque a cercare di aprire questo argomento A che battuta cerchiamo di liquidarlo La politica Quello che sta succedendo in questo momento Siamo in un periodo elettorale C'è una situazione molto particolare Di incombente e crisi Veniamo da una situazione di crisi Altrettanto brutta, altrettanto particolare E il mondo cattolico è preso in mezzo a questa crisi Politica, morale, economica Sanitaria E chi più ve ne metta Stando ben lontani dal non expedit Di ottocentesca memoria Se lei potesse esprimere un pensiero Rispetto all'orientamento Non dico partitico Ma politico Del pensiero cattolico Anche senza dare indicazioni Anche senza dare suggerimenti Perché ovviamente Magari non compete a noi Però se si potesse fare una riflessione In termini politici assoluti Dal punto di vista del pensiero cattolico Quale riflessione potrebbe essere Quella più produttiva? Intanto vorrei dire un po' ironicamente Che il non expedit Mi affascina ancora oggi Vista la situazione generale che viviamo Direi alla luce del Magistero Ufficiale della Chiesa Che i cattolici devono orientarsi Sul voto politico prossimo Tenendo presente che ci sono valori non negoziabili Valori morali non negoziabili Ed è su quelli che si deve giocare La carta così Della adesione di coscienza Ad un voto politico I valori non negoziabili Sappiamo bene quali sono La Chiesa difende sempre la vita Dal suo naturale sorgere Al suo naturale tramonto E quindi tutta la faccenda Relativa all'aborto All'eutanasia E tutti gli altri valori Che la Chiesa di volta in volta Porta avanti Una distribuzione equa Delle risorse Una attenzione alle classi Più povere La questione sociale non è da oggi Che viene tenuta presente Dalla Chiesa Ecco ci sono questi valori Il cattolico quando deve votare Deve tener presente Che il voto che viene dato Ha di mira Il rispetto di questi valori non negoziabili Altrimenti un compromesso E direi che potrebbe persino essere Un tradimento alla fine Invito per quanto posso Ad un voto di coscienza E tutti preghiamo la Santa Vergine La Madonna di Loreto O la Madonna di Pompei Per dire due più importanti Santuari Mariani d'Italia Affinché dal cielo Intervenga Vedo che è una situazione Quella politica italiana Non semplice Abbastanza complessa Nonostante il bipolarismo classico Credo che ci sia Una situazione non facile Non so come andranno Queste votazioni Per quel che mi riguarda Prego la Santa Vergine E auspico che tutto si svolga Secondo il disegno di Dio E per il bene comune Della nostra amata terra d'Italia Sarebbe Dove si trova Roma? Sarebbe il caso Avremmo bisogno Di un bel cambiamento positivo Comunque La ringrazio moltissimo Per questa Ennesima Seconda possibilità Di ascoltare Il suo punto di vista Ritroveremo in Sardegna In futuro Tornerà a trovarci Sì se non c'è un un expedit Volentieri ritorno in Sardegna Sarà un piacere Era con noi E sto con noi Don Alessandro Minutella Rieccoci qua in studio Dopo l'intervista La seconda intervista Fatta a Don Alessandro Minutella Allora Approfitto della presenza di Simone Per chiedergli qualche opinione Qualche osservazione Sul pontificato Fino all'operato Secondo lui Del pontificato Bergogliano Cosa possiamo dire Al punto di vista Guarda Partendo dal fatto Che queste interviste Sono comunque interessanti Poi io non sono vaticanista Quindi non voglio entrare Nel merito Di questioni teologiche Sulle quali ovviamente C'è poco da Da dire Perché non è il mio campo Ecco Quando non è uno Non è il mio campo Non è che posso parlare A vanvera E comunque Però io ricordo Una vicenda interessante Perché nella prima parte Prima dell'intervista Parlavamo di vaccini E tutte queste cose qua Io ricordo le parole Di Bergoglio sul vaccino Il vaccino Come atto d'amore Quella roba Quella roba Ha pesato Su quello che è avvenuto poi In Italia E ovviamente Non solo in Italia Ecco Vaccinarsi Per me Non era un atto d'amore Vaccinarsi Non era un modo Per Cos'ha di come dire Per Risolvere I problemi Perché poi L'abbiamo visto Non hanno risolto Assolutamente I problemi I morti Ci sono ancora I casi Ci sono ancora Forse non dipendono Dal vaccino Forse non dipendono Solo dal covid Ma dipendono Dalla gestione Delle cure E da come Sono state curate Migliaia e migliaia Di persone Anzi Milioni di persone In tutta Italia Chi lo sa? Ma lo vedremo Lo scopriremo Solo vivendo Purtroppo Beh Quello Comunque Ne abbiamo trattato Diverse volte Con l'aiuto di Enrico Durante il momento In on news E anche è vero Che comunque sia La gestione di questa cosa Ormai sta emergendo In tutta la sua fallimentare realtà Non c'è dubbio Ne parleremo sicuramente Più avanti Perché adesso Tutti quanti Fanno a gara Ripulirsi La fedina Diciamo così Storica E a fare Riparsi la virginità Dicendo Oh ma guarda Con queste cure Si poteva Salvare un sacco di gente Te ne accorgi adesso Questa è veramente Non è soltanto Sciatteria o idiozia Secondo me Colpevole negligenza E secondo me Questa cosa Emergerà ancora più Gravemente Nel corso È la follia La follia Che abbiamo Che hanno trattato Da bestie Dei medici Che dicevano Fin dall'inizio Non subitissimo Ma quasi subito Che bisognava utilizzare Gli antinfiammatori E secondo Invece Il pensiero dominante La tachipirina La vigila Tesera La sua Esattamente Ma questa cosa Questa cosa L'abbiamo approfondita Un sacco di volte E come ho detto prima Questa cosa Emergerà Sarebbe più grave Nei mesi a venire Comunque Allora Intanto Tanto a voi Grazie Simone Allora Intanto Noi ci riproponiamo Questo piccolo spazio Di seguire Anche il contesto locale In vista In vista L'attività elettorale Abbiamo già analizzato La situazione Ma comunque Diventerà anche Un spazio di approfondimento Sui elementi Sistemi locali Sì prego Certo prego Uncima cosa Certo Sì L'altro giorno Ha arrivato Un comunicato stampa Da parte degli indipendentisti Bustiano Composto di Sardina Nazione Che invitano Al non voto Visto che abbiamo parlato Di tutti i partiti Parliamo anche Del non voto Brevemente Cioè Il concetto Degli indipendentisti In questa fase Che bisogna Rifiutare Il sistema Politico Italiano Che di fatto Vede L'Italia Che ancora una volta Utilizza la Sardegna Come propria Colonia Parla di 149 candidati 17 partiti Che sono tutti Espressione Del sistema Politico Italiano Che di fatto Spesso e volentieri In queste liste Ci sono candidati Che non sono neanche Sardi Tra i capolisti O comunque In posizioni Elegibili E che Invece Quelli Che sono Sardi Sono Automaticamente Già venduti All'Italia Anche se è una riflessione In più che è utile Per capire Anche Le posizioni Dell'indipendentismo Insomma In questa fase Molto utile Anzi Ti dirò Mi hai fatto venire Un'interessante idea Sì Provare a contattare Bustiano Composto E portarlo qui in radio Per parlare Delle sue posizioni Ma gli fai proprio bene A farlo Potrebbe essere Una mia idea Potrebbe essere Una tua idea Uno dei due Facciamo a gara Chi ci arriva prima Potrebbe essere Un ottimo tema Per la prossima puntata Di Mementino Addendum Per poter Rifare un approfondimento Perché il tema Dell'indipendentismo È molto particolare E anche molto interessante Però sfortunatamente Poco trattato E anche mal compreso Dalla maggior parte Dei sardi Quindi Beh vabbè È anche vero Che è un po' Colpa dell'indipendentismo Che si è sempre Troppo diviso In Sardegna Benissimo Analizzare C'è n'è di roba Da discutere È un settore Molto interessante Certamente sì Sempre approfondito Da un punto di vista Giornalistico E può essere Anche carino Perché no Perché no Perché è vero Che purtroppo Patisce la malattia Che noi sardi Portiamo Nel nostro DNA Culturale Ovvero Cento test E cento capelli Per chi non è sardo E quindi Cento gogas Cento berritas E quindi purtroppo È una malattia Che sta avendo anche Il fronte del dissenso Scarsa unità E contime Lì ti contime E non è così Che si vince Mettiamola così Comunque È così È proprio così Esattamente Ma approfondiremo Comunque È un'ottima occasione E cercheremo di approfondire Comunque Simo Adesso ti devo ringraziare Questo spazietto di approfondimento Ci ha regalato Dobbiamo trovargli un nome Sì esatto Abbiamo il proprio nome E provvisore di Mementino Addendum Lavoreremo così Tra di noi Per trovare un nome adatto Che non sia Insomma Una scoppiazzatura Di uno spazio Che è già ben presente A Radio Ascolto Live Comunque Detto questo Devo ringraziare ancora Simone Spiga E il suo canale Seguito La Video News Live Su Youtube Video di un aggiornamento Molto interessante Quindi video giornalistici E opinioni giornalistiche Sempre in aggiornamento E che vi continua a seguire Ovviamente anche Radio Ascolto Live Con le sue piattaforme Con appunto La piattaforma Audio di Spreaker Con il canale di Youtube Seguite anche La pagina di Facebook Se volete conoscere Gli aggiornamenti Detto questo Ringrazio ancora Simone Questa è Simone Spiga Gabriele Mementino Addendum Alla prossima puntata Grazie a tutti Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.